Ok ragazzi, allora, vediamo di spupazzarci, un altro po' di far cry, allora, direi, parla con Tensei Ma allora non mi danno missioni, cioè il mio obiettivo adesso è quale, perché non ho capito un cazzo Non è questo Qui ci sono tipo le, eh, queste sono da liberare Però credo che le missioni siano qui Cioè credo che la missione è nostra, sì, a parlare con lui Qui cosa c'è? No Andiamo da lui, vediamo cosa ci dice il signorino Ho letto notizie di... di gente Che andando dal campo di notte trova... Trova tizi che scopano Tipo, dimmi La figa, manca la figa Minimo gli devo fare sta roba, me lo sento Fai vedere, canne per il lupo Merda Sono qua, ce li devo migliorare davvero Dai, che due coglioni però Vabbè, io vado Le canne sono qua giù E il lupo mi manca più che altro Il lupo non so dove beccarlo Quello non è un lupo Che due balle Due maluni che fumano Perché non ho ancora ben chiaro Cosa dovremmo fare Non so se il nostro obiettivo è proprio questo Adesso personalizza la base Farla diventare figa E poi Cos'è quel rumore? No, sono capre E poi si... Cioè Ne sbucano altre missioni da fare Non lo so C'è il nostro compagno fedele dietro Ecco, queste sono le canne E vabbè, ci siamo Però Il lupo, dove me lo vado a trovare? Non so se me lo segna nella mappa Fatemi dare un'occhiata No, vedete, segnalo Il doll Cinghiale Credo che il lupo Lupo Beccato, subito Ciao Anzi, facciamo così Per evitare Andiamo direttamente lì E accendiamo anche altre pire Accendiamo Così siamo più veloci Vediamo un attimo Ok, già segnato E qua giù dovrebbe essere Ne secco uno Poi torno indietro Però vado ad accendere un'altra pira Perché voglio che si slibri un po' la zona Anche perché sicuramente Sicuramente Perché mi insegna un obiettivo Da quella parte Mi insegna un obiettivo Qui Perché non credo sia così lontano Vabbè Ecco i lupetti Ora devo trovarlo Lupo bastardo Dovrebbe essere qui in zona Capra di merda C'è il mio compagno fedele? Dove sono i lupi? Sentiti anche Cazzo Merda Quello è il lupo Vai a backle qua Le uccido l'oro L'oro uccido Dove sono? Pezzo di merda Oh l'ho ucciso Come va? Oh Cristo No è caduto E vai Però il mio bellissimo Cazzo Ah non posso salire Ecco Cura la belva No perché Eh Ma si ripristina da sola la vita Cazzo Come la cura la belva? Cristo Ma l'ha segnato Ecco si Ma il mio bestione sei Ok Aspettate un secondo Qui sono delle pire Pire Ah va questo Fuoco del campo Ah ecco Posso reclamarlo Come punto di rientro Io direi di accendere questa Antone non credo Quanto è lontana? Dov'è? 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 Settecento piedi circa Cioè andiamo al volo E la reclamiamo E poi torniamo indietro E gli personalizziamo La casa Allo stronzo Perché non so cosa fa Cioè so Coglione Ma sono ovunque adesso Perché proprio le missioni Non so che cavolo fare Oh cazzo Arriva qualcuno? No Andiamo bello Dio santo Vabbè Tu troverai il modo Di raggiungermi tanto Negli altri far cry C'era sempre una missione Disponibile Forse sono io Che non capisco bene Ma Porca la vacca Troia Che cazzo Che cazzo sono finito Che cazzo sono finito? Va c'è qui in mezzo Va Cos'è sta porcata? Ma soprattutto Cosa c'è in alto? Cristo le aquile Ma attaccano anche me? Per caso Oh merda Cos'è successo? Oh va 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 Che cazzo c'è? Vai attacca Io attacco lui Ultima fleccia Oh merda Ah Oh 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 Fezzo di merda Ma ce n'è altri Lassopra Merda Ancora La devo curare E basta Però C'è cavatela da solo Da un certo punto Ah ok Così Cioè quelli sono nemici no? Forse no? Sono nemici E come Cristo? Beccato Eh anche se mi hai visto La malefrega una fava Con la cazzo di là Mica mi sa che sono finito In un Cosa nemico T'altro Questo neanche mi caga Oh Lasciami la belva Non ci provare Merdaccia Cosa Ulli Mangia questo Eh scusa Prendo carne Così mi può servire Fottuto Socco è pieno Di questi oggetti Socco è pieno Anche dei miei coglioni Oh guardate Che figo No vabbè Comunque dall'altra parte Con la pira di merda Mi sto perdendo Scusate una cosa Ma non è che qui c'è vicino un cam E salvo Il Wenge a cattura Cazzo è qui vicino Allora Lo faccio Lo faccio al volo E qua Tanto vale Salvo il culo No Quanto è friceo Ne posso portare poca Però che palle Cristo Vai ferma Movezza di merda Avete dei coglioni Ci provare Sì Prego Non c'è di che Cosa Io non parlo tua lingua Yeah Abbiamo 14 abitanti adesso Questo è un luogo scoperto Va bene Comunque Non so se è più lontano A questo Questo Credo sia più vicino No Dov'è? Dov'è? Non lo vedo No No è troppo lontano È più vicino a questo Vado Però ho sbloccato anche un Cos'abilità Vediamo cos'è Avevo detto che l'avrei fatto Questi Quindi Però Eh no Tutti gli altri Sono bloccati Questi mi servirebbero Vediamo Non so cosa cavolo Mi può servire Ma lo faccio Cazzo di rumore Porca no Porca nonna Sto dicendo Andiamo bello Vai Scappa con me Non perdiamo altro tempo Comunque ragazzi Lo so che ho iniziato altre serie Porca la merda Però Però mi voglio dedicare a questo Perché lo volevo fare da un po' Le altre serie Poi le completerò Ovviamente Non è che ho detto Che adesso Faccio far cry primal E le altre serie Le annullo Crystal Le farò anche le altre Però dopo Quindi siete avvisati Soprattutto Dying light Non vado l'ora di continuare Questi Sì Sì grazie Sì grazie Però i sottotitoli Non ci sono Queste stronzate Che mi dicono Me lo devo Inventare Devo tra l'altro Legno duro Ah cervo È un peccato È un peccato che non c'è il corpo A corpo E per cosa è morto Non ho Non ho sparato Neanche un colpo Spalato un colpo Vabbè Dettagli No però Come ho fatto Seriamente a morire Come ho fatto a morire Boh Dettagli L'elma mut Ma sopra c'è gente Che combatte Non me ne frega Una fava Mi sa che sta facendo Notte però Sapete Fatemi prendere questo Comunque spero Che lo possa fare Un piccolo coltellino Qualcosa del genere Perché l'attacco Corpo a corpo Mi serve Noto con piacere Che gli animali Praticamente non mi cagano D'altro legno Siamo quasi vicini A volta che sblocco quello Torno indietro Aiuto lo stronzo A rifarsi la base Che figa Mi fa ancora Oh Guardate Ringhiano però Non è che rompono Pi' di tanto Guarda qui posso scendere Senza ammazzarmi Sì Oh merda Guardate 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 Ma che palle Che vuoi vattene Qui c'è qualcosa Aspetta un secondo Questa cosa Colloca Colloca Cotton degli spiriti Yeah Uno su dodici Andavo con Altri undici Yeah Yes Comunque siamo qua Siamo arrivati Siamo arrivati Siamo arrivati Il problema Il problema è che sta Facendo notte E mi inseguono i cinghialoni Fra poco Siamo arrivati Siamo arrivati I lupi Mi stanno seguendo Guardate che scorci bellissimi Cristo quanto è bello Sto gioco Cazzo cazzo Mi stanno inseguendo Tutta la fauna Mi stai inseguendo Forse sono distratti I cinghiali Ecco qua Accendi la pira Per reclamarla Comunque visivamente È spettacolare Grandissimo E chi ti frega Bella Allora Accendiamo Qui Col fuoco Dai Yes Ecco il nostro Cuffetto Popolazione Wengia Aumentata Ah aumenta anche Con questo Bello A quanto? A quanti siamo? Dovevo arrivare A 40 abitanti Per aumentare Ancora 3 abitanti Vabbè Meglio di niente Ok Allora facciamo così Torniamo indietro Al volo Ma cosa ho scoperto? Caverna C'è un bordello Di cosa da fare La tua caverna Ah ecco Anche la mia caverna Per migliore Per controllare Tuoi progressi Ah ecco Dove andare Alla mia caverna Allora Qui dove controllo I miei progressi? O forse devo riposare Non ho idea No Puttana la vacca E io le avevo prese Io mi ricordo Di averle prese E non sono pazzo Vediamo su questo lato La Le canne E Cristo Le avevo prese lì Ma voglio Vedete se mi sblocca Una missione Altrimenti Continuo a girare la Mop Perché cazzi Mi è Prendi le canne Porca la merda Oh Canne Finalmente Canne rare Addirittura Nel legno Perché mi serve Non so cosa significano Quelle cose In basso a destra Non ne ho idea Ma Qui sopra Oh Sto entrando il video Da dove lo non posso seguire Può chiamare Più tardi dal menu Belva Sti cazzi Perché non può seguirmi Cioè Allora Migliore No Fatta la capannina Stronzetto Contentola Sei contento Scroto ambulante Siamo a cosa A 20 di popolazione Vai Sei contento Parla Ecco Vedete Parla con Sahila Adesso sicuramente Le ci dà una missione Sia benedetto Il signore Prima però No Prima un cazzo Anzi sì Prima facciamo un riposino Beh Non puoi dormire Merdone Non puoi dormire Non puoi dormire Vabbè Topa arrivo Topo arriva Topo arrivo Topo arrivo che schifo, orecchio, orecchio arma in più, clava non ti avvicino così tanto perché mi fai schifo al cazzo abbiamo un'altra arma quindi io pensavo che fosse la clava cioè adesso lì ci ha dato la clava però quella che avevamo già non era una clava era una torcia, boh l'ho usata per picchiare il tizio la tua scorsa si lo so e quindi cosa dobbiamo fare come ti va, ecco tieni venuti li lascio va bene oddio quello oddio aahhhh maimarchasar guindjamara uuulaiqua shuuta marrita what enorme enorme ah dobbiamo anche difendere il villaggio pure check point check point 3 camille chaks 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 asola chaks cato e vaffanculo dammi la clava marca merda lascia mangio un po di carne aspetta attaccate il villaggio mi faccio vedere io vi rendo di mazzate pezzi da beccato ma come fiii buio arcar roia ma che zona di missione sono ancora qui puoi difendere il villaggio cancello della caverna sott'attacco puttana troia aspettatevi posso entrare nel tuo villaggio? eh grazie porca merda e muori oh cazzo fai è questo che sta lanciando? car roia veleno? what? puoi salvare la nota delle punture delle api dei morsi di serpente o dei fumi fuori dalla terra alcuni non ti lanceranno delle bombe il veleno profumo l'assoluto ma prima un po' il suo effetto svaniccio perfetto cura bel valvolo subito porca merda ma ancora? ma porca ma non mi volevo fare una cosa io la lancia la lancia mi piace un casino no togli il staffetto di merda mi ha fatto giocciare le palpe oh figo cadono le cose ci siamo mi piace molto il vostro outfit oh per quanto ancora ne arriveranno oddio ne arrivano altri va no è lui che urlava complimenti vengono altri te fermo ora che merda ritrovati ok topa ok brucia il campo figo aspetta un secondo ma c'è un punto abilità buono ne ho un altro ok ma questo non era da fare guarda che ci penso legno preto vengono rivisitati ok non me ne faremo un cazzo questa roba cioè possiamo domare jaguari bla 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 leoni rari è una figata sono animali molto più forti della bel vacheola ma poi ne possiamo domare solo uno alla volta questa cosa non l'ho capita ma soprattutto devo trovarli perché non so neanche dove andare a cercarli adesso andiamo a uccidere i bastardoni però una cosa io volevo farmi una lancia ma non fa porca la vacca merda io volevo farmi la lancia era bella forse non ho gli slot necessari manca un altro slot forse mi piace molto la lancia fa vedere una cosa creazione devo vedere ah no posso farla mi manca artesia mi manca che è qui no l'ho già preso le canne mi mancano qua 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 però posso farmela ok artesia per 3 le canne sono qui perché è forte mi piace molto mi piace assai e poi la lancio li colpisco questo rumore mica smetto di rinchiare così Cristo mi fa spaventare ma quello è uno stronzo vabbè si fotta vado a distruggere il villaggio non possiamo salire da qui bello fai la creazione dov'è 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 lancia yeah però ho finito già gli ingredienti gli ingredienti poi ah ecco questi sono sono sbloccati allora bene bene vi dirò quasi quasi mi piace di più la lancia dell'arco cazzo succede beccato 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 ok l'ho salvati uccisione pelva ma mi hanno ucciso il cane no oddio mi sto spaventando non toccatemi il cane perché veramente mi incazzo comunque sono tutti in lotta praticamente thank you per la lancia perca merda posso usare anche senza lanciarla quel villaggio è qui il problema è che mi evidenzia nemici anche gli animali qui ne faccio confusione e penso che siano magari uomini dell'altra tribù si provaci ok che rumore fa brucio il campo udam faccio vedere io prendiamo il legno cazzo stava avvicinando un po' troppo io voglio l'orso cioè immaginatevi l'orso attaccare con un orso questi cazzo di villaggi non lo ammazzeranno mai un orso furtività allora lancia sempre di strani qui c'è ok vabbè queste sono cose chiare proprio distruggi gli alberi è uscito ok devo distruggere gli alberi quelli devo distruggere gli alberi di ossa devo assolutamente sbloccare gli attacchi dall'alto cristo quanti sono ok bello tu rimani lì non credo che mi vedano questa roba come la distruggono così pietra del sud dove uccide tutti i nemici tra l'altro bello ma che fai dammi l'arco dammi l'arco fermo 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 pezzo di merda ioda ha detto uno ioda muori due frecce se non lo becco in testa porca merda si è abbassato all'ultimo secondo ok sono venuti anche i miei amiconi yes qual è l'albero albero questo dammi la clava recuperato una lancia stanno arrivando altri stronzoni piscia proprio altri va 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 cazzo di merda scendi giù becca lui il cane sembra bloccato la belva non può raggiungere certo è bloccata lì belva stupida ale ci sono altri guerrieri nemici si che ci sono oddio no oh scusa ho sbagliato ancora ce ne sono pezzi di merda aspetta da questa a questa un'altra becca lui becca lui mangiatelo oh yes beh si mangia recupera la vita un grande minchia strage cristo che Sì, non lo so. C'è un'altra cosa? Sì, non è solo un'altra cosa? Sì, non è solo un'altra cosa? Ma ci... ...a un'altra cosa? gialli adotto però lo sai inizio che merdaio però per aprirlo da devono essere esplora la porta questi abiti del tuo nuovo villaggio porca merda ah ecco ti insegna a seguire dei potenti abbastimenti clave migliori indumenti invernali nuova abilità di creazione ok questa invece sono tutti piuttosto interessanti cristo io direi però lui un attimo solo abilità un punto legno vabbè queste cose ti le fa trovare bla 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 ma a me servirebbe qualcosa del tipo eh cioè sta roba questa cosa le voglio troppo sbloccare mamma mia questa cosa è un attacco impicchiata che figata pulibraglia di bici gabbia vabbè questo punto mi sa che me lo lascio un po' da parte poi vediamo come sfruttarlo ehm cos'è sta roba bomba pungente figata non ne ho ancora imparato a fabbricarlo vabbè cinghiale la faretra merda la faretra devo fare siamo fuori di testa hai sbloccato il risultato aumento di velocità recupero la camera per il risultato continuo ok no mi serve il doole il doole dove era il doole il doole ecco qui è in zona perché così mi faccio la faretra perché le otto frecce sono pochissime riesco a fare un cazzo con le otto frecce la prendo al volo va merda eh dov'è dove il segnalino no non l'avevo piazzata qua dammi questo ce la facciamo al volo e andiamo dal tipo che ci può dare indumenti migliori e ci insegna e anche armi migliori e ci insegna a fare varie robe minchia il doole è così lontano il doole mi viene da ripetere l'ossessivamente il doole il doole qui c'è un cazzone solo che fanno questi oh mio dio stendiamoci un velo pietoso non so cosa stiamo facendo vabbè straballam il rumore di uomini ciao bello ti cercavo che pezzo di merda ok dovrei poterlo fare sesso adesso devo prendere le piume 24 ne posso minchia quante le potrò portare sicuramente le piume le dobbiamo prendere ovviamente dagli uccellacci di merda allora ragazzi io per ora spezzo qui l'explay on spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao a tutti